Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. Divina, la divina misericordia, la natura divina, la grazia divina, anche questo aggettivo è un aggettivo molto usato nella scrittura, ma cosa si oppone a divino? Non è l'umano che si oppone al divino, ma è il mondano, è un sistema, come direbbe Giovanni, che si oppone a Dio, che è carnale, direbbe San Paolo, cioè tutto ciò che obbedisce non alla dinamica di Dio, ma alla dinamica del mondo e quindi diventa poi una sorta di antagonista di Dio. La seconda lettera di Pietro ci dice questa cosa bellissima. Egli, parlando di Dio, ci ha donato dei beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione. Dio ci vuole rendere partecipi della sua natura divina. Ciò che è divino appartiene alla sfera di Dio, così come la sua grazia, così come il suo amore, la sua misericordia. Ciò che appartiene nella sfera di Dio, in qualche modo è contagiato da questa divinità. I padri greci usavano un termine che può anche sconvolgerci, la divinizzazione. Un po' ci fa impressione. Noi siamo chiamati ad essere divinizzati, ma che vuol dire? Vuol dire che partecipiamo con Cristo alla sua stessa vita divina, proprio perché la divina misericordia che si rivela in Lui ci mette in collegamento. È come se ci facesse una trasfusione di vita divina e l'immagine della vita ai tralci la rende ancora più evidente. Noi siamo innestati in Cristo e quindi scorre in noi la linfa di Dio. Lo Spirito Santo, che è la vita di Dio, scorre anche in noi come in Cristo. Abbiamo avuto una trasfusione divina e in noi il principio vitale non è più la carne, ma è lo Spirito di Dio. Il principio vitale non è più la concupiscenza che ci fa desiderare le cose perché siamo deboli e fragili e vogliamo il potere, i soldi, il piacere. No, la nostra vita non è più la carne, ma la nostra vita è l'amore di Dio. Ecco come nascono i santi. Sono persone che hanno avuto una trasfusione divina. Attraverso la grazia che ci è comunicata noi viviamo ormai in Lui, con Lui, per Lui. Anche questa è un'immagine bellissima negli atti. Si dice che noi respiriamo, viviamo in Lui come un pesce nell'acqua. E allora riconosciamo che nel mistero della salvezza di Cristo noi siamo chiamati ad essere perfetti come il Padre. Divini nel senso che partecipiamo di questa grazia infinita. E allora cambiamo il centro della nostra vita. Facciamo ruotare la nostra vita in Dio. Tutto diventerà divino. Questo aggettivo di cui abusiamo a volte, no? Ah, questa cosa è divina, addirittura un cibo divino, no? Spostiamo il centro di questi aggettivi e tutto funzionerà bene. La nostra vita diventa divina. L'Eucaristia diventa il nostro cibo divino. Le nostre esperienze nella preghiera, nell'amore, nella carità diventano divine e tutto acquisterà quella luce straordinaria che ci farà respirare con Dio.